Si vanno Bortolazzi, 37 anni, diplomati in ragioneria, l'unico Ligula ad essere stata ammessa a partecipare al Premio Viareggio nella sezione Poesia. Per questo motivo Bortolazzi è il presidente della regione di Liguria, Claudio Burlando. Il Premio Viareggio rappresenta infatti un grande traguardo nel mondo della poesia e della letteratura. Bortolazzi vi partecipa con la sua raccolta di poesie dal titolo Blu Italiano.